buongiorno ben ritrovati alle fonti prima live streaming tv italiana oggi martedì 20 aprile domani 21 aprile è Natale di Roma lo dico subito quindi non andrò in onda perché sono in festa no non è vero anzi l'ospite di domani Filippo Lamantia Cuoco come gli piace ricordare a lui di essere chiamato oggi abbiamo un ospite speciale perché è un magistrato della Corte di Cassazione però consentitemi prima di fare una piccola introduzione su due argomenti che hanno investito la giornata di ieri con due protagonisti e che oggi continuano a tenere banco il primo è la questione della Super Lega di cui avrete sentito letto a proposito dei 12 club tre spagnoli tre italiani Milan Inter e Juventus sei inglesi che vorrebbero dare vita a un torneo in cui ci sono loro e altre tre squadre oppure più squadre di livello internazionale in cui poi coinvolgere altre squadre che non fanno parte del parterre dei fondatori per questo super torneo perché pensano di farci soldi sono società anche pesantemente indebitate in Spagna parliamo di Real Madrid Atletico Madrid e Barcellona però interessante perché ieri c'era questa intervista ci sono i video e i highlights in rete di Florentino Perez che è il presidente proprietario del Real Madrid il quale davanti alla prima pagina del quotidiano spagnolo Marca che è il quotidiano più letto in Spagna quotidiano sportivo ha detto scusate chi è la casa editrice di questo giornale? ed è una casa editrice spagnola controllata però da RCS dalla Rizzoli quindi ha detto sbaglio o l'editore è Urbano Cairo che è anche presidente del Torino e quindi ha detto io sono per l'informazione trasparente prima di attaccare il nostro progetto dice Perez che è coinvolto appunto nella Super Lega prima che la UEFA e la FIFA ci facciano la morale vorrei ricordare a tutti che il mondo del calcio gira intorno a una serie di interessi opachi e poco trasparenti e poco trasparenti basti ricordare che i mondiali sono stati assegnati al Qatar con una procedura intorno alla quale c'è il sospetto di tangenti e comunque se qualcuno ha tempo e voglia vi consiglio la lettura di questo libro che si intitola non a caso Omerta Omerta scritto da un grande giornalista inchiestista soprattutto nel mondo dello sport Andrew Jennings Omerta la FIFA di Sepp Blatter una famiglia criminale organizzata il libro che ha fatto esplodere il più grande scandalo sportivo del secolo scorso ovviamente ripeto Omerta quindi diciamo così che alla romana si potrebbe dire nel calcio il più pulito c'ha la rogna e comunque tutto ruota intorno ai soldi siamo passati dal calcio di palanca grande giocatore del Catanzaro negli anni 70 quando Catanzaro batte nel 72 per la prima vittoria in sera contro la Juventus con un gol di un tal Mammi che è passato alla storia sotto la pioggia in un campo infangato siamo passati dal calcio di palanca alle palanche detta alla Ligure ai soldi del calcio di oggi punto a capo video di Florentino Perez per chi vuole video di Beppe Grillo anche per chi non vuole il quale con un'iniziativa assolutamente sconsiderata ha riunito in sé tutte le figure cioè l'avvocato difensore del figlio accusato di un reato grave stupro testimone a discarico dello stesso figlio e calugnatore della vittima perché ha fatto una serie di considerazioni sulla sulla ragazza dicendo ma come mai ha aspettato solo otto giorni se era stata così violentata questo messaggio fine di Grillo quale lamenta la campagna mediatica l'agonia la giustizia ma come hai fondato un movimento sul baffanculo hai fondato un movimento chiedendo l'agonia e la forca in piazza per chiunque fosse minimamente sfiorato da una qualunque accusa e adesso purtroppo me ne dispiaccio tuo figlio è coinvolto in questa storiaccia tuo figlio che è innocente fino a prova contraria ma è innocente fino a prova contraria bisogna fare il processo non lo decidi tu Beppe Grillo con un video ergendoci a giudice tribunale giuria avvocato difensore testimone di scarico e calugnatore della vittima non te lo puoi consentire e non voglio neanche ricordare il fatto che tu sia un pre giudicato con condanna passata in giudicato in Cassazione per omicidio colposo plurimo per un incidente in cui tu eri alla guida e sono morte tre persone tutta una famiglia per l'incidente automobilistico in cui rimasero coinvolte con te tu sei sopravvissuto sono contento hai fondato il movimento 5 stelle basato su uno vale uno non è vero uno non vale uno perché un altro padre con un figlio accusato non avrebbe potuto fare il video che hai fatto tu e tra l'altro vederlo trasmesso dai telegiornali almeno da uno sicuro perché l'ho visto lì io da direttore del tg non l'avrei trasmesso ma questo è un altro paio di maniche bene buongiorno a Giuseppe Cricenti abbiamo evocato la Cassazione per Beppe Grillo magistrato di Cassazione buongiorno buongiorno ciao eccoci diamoci pure del tu perché ci conosciamo ci siamo conosciuti in occasione della presentazione di un libro che non era quello di Giuseppe Cricenti ma era un libro intorno alla macchina della giustizia poi lo stesso Cricenti non da solo ha scritto un libro non è vero ma ci credo in sostanza il mondo dorato delle fake news ricordo male Giuseppe? No no ecco sì sì insieme a Fernando Gallone Ok perché siete arrivati a scrivere questo libro? Qual è stata l'impellenza la necessità che avete sentito? No ma inizialmente l'idea era di affiancare questo studio con una iniziativa legislativa che portasse ad avere una legge di regolamentazione delle fake news o di controllo se diciamo così delle fake news in Italia e poi è rimasto solo il libro perché non abbiamo avuto la forza sufficiente per mobilitare chi ci aiutasse a presentare questo disegno di legge che rimane in piedi nel senso che in Italia ormai è forse uno dei pochi paesi in Europa che non si è dotato di una legge che abbia un minimo di regole che contenga un minimo di regole per contrastare il fenomeno Sì anche se io trovo questo dibattito surreale nella misura in cui io non capisco perché se mi affaccio dalla finestra di casa mia e insulto uno che passa come minimo qualcuno chiama la polizia come minimo mi becco una denuncia come minimo vengo portato o in sede penale o in sede civile a rispondere degli insulti lanciati dalla finestra invece in rete se io insulto spaccio notizie non verificate spaccio notizie pagate dalle aziende quelle che una volta si chiamavano publi redazionali come se fossero notizie vere se qualcuno storcia il naso e dice come fa il dottor Cricenti Giuseppe Cricenti Magistrato di Cassazione ma forse dobbiamo regolare questa parte del settore giù le mani dalla libertà di espressione la rete è libera, democratica, gratis non sognatevi di mettere dei paletti c'è questa strana malformazione mentale nei confronti della rete no Cricenti? C'è questa cosa anche perché non è chiaro il concetto di fake news viene confuso con l'opinione infondata o sbagliata cioè i terrapiattisti, quelli che pensano che la terra sia piatta non mettono in giro una fake news è semplicemente un'opinione stupida si contrasta con un'idea storta che si raddrizza con un'idea dritta e quindi è chiaro che se loro pensano che per fake news si intenda un'opinione sia pure bislacca hanno motivo di dire non puoi vietare le opinioni per quanto stupide, infondate, messe in piedi così ma le fake news non sono quelle, non sono opinioni infondate le fake news sono delle notizie false costruite apposta per condizionare l'opinione pubblica ed orientarla verso un determinato obiettivo una determinata presa di posizione e sono tutta un'altra cosa l'opinione è anche stupida e protetta dalla Costituzione ma la manipolazione dell'opinione pubblica attraverso la menzogna o attraverso la costruzione di fatti alla bisogna non è tutelata dalla Costituzione Ci vuoi spiegare che, lo dico perché poi nel dibattito pubblico o anche tra gli operatori di informazione uno dice la Corte di Cassazione poi sì, diamo per scontato che tutti sappiano che cos'è, a che cosa serve la Corte di Cassazione molti non lo sanno non sanno che ci sono tre gradi di giudizio forse sì, hanno orecchiato che siamo un sistema a seconda delle stagioni o troppo giustizialista se si tira da una parte o troppo garantista se si tira dall'altra esattamente cosa fa, cosa serve la Corte di Cassazione? Dovrebbe servire a fare come si dice tecnicamente nomofilachia cioè a mettere ordine nei diversi orientamenti della giurisprudenza di merito su questioni su controversie quindi serve a garantire che le sentenze di merito rispettino la legge e a dare ai giudici di merito orientamenti univoci su come poi decidere le capuse che vengono alla loro cognizione quindi è il giudice da questo punto di legittimità perché serve a fornire un'interpretazione che si assume corretta della legge ai giudici di merito questo era il disegno originario della Corte di Cassazione inventato da Calamandrei cioè secondo un'idea di Calamandrei purtroppo oggi con decine di migliaia non so quante siano 40.000 cause che dipendono in Corte in teoria questa funzione rimane naturalmente in pratica diventa sempre più difficile realizzarla quindi le risposte che la Corte dovrebbe dare immediatamente ai giudici di merito sull'interpretazione della legge perché effetto un controllo sulla corretta interpretazione sulla corretta applicazione della legge queste risposte sono un po' lente perché è intasata da l'arretrato notevolissimo ecco allora riassumo la mia maniera quindi da imbrattacarte la Corte Costituzionale si occupa di verificare la legittimità delle norme sotto il profilo della conformità ai dettami della Carta Costituzionale consulta Cassazione la Cassazione dice ai diversi giudici di merito quale dovrebbe essere la corretta applicazione di una norma secondo lo spirito della lettera il famoso orientamento della Cassazione cosa dice la Cassazione la Cassazione dice rispetto a questa norma che i termini previsti sono improrogabili punto da quel momento quella norma chiunque venga toccato e dica ma i termini sono arrivato con 48 ore mi dispiace la Cassazione dice che i termini sono improrogabili punto tutto chiaro fino a qui dopodiché è ovvio che quando sentiamo dire dal dottor Cricenti Giuseppe Cricenti che c'è un inevaso di alcune decine migliaia di cause è chiaro che la Cassazione fa quello che può essendo un'istituzione composta da esseri umani poi ci sono delle cose singolari su cui non voglio coinvolgere il giudizio oppure se vuole me lo darà Giuseppe Cricenti in cui ci sono delle cose che uno Marco Tronchetti Provera lo dico perché è stato il mio editore il migliore editore che ho avuto nella vita totalmente libero io di fare i miei danni il quale è stato a un certo punto mandato a giudizio e processato e condannato per ricettazione aveva ricevuto un cd con dei dati dati che erano stati rubati lui si difese in primo grado dicendo che quando l'ha ricevuto manco l'ha toccato quel cd l'ha mandato direttamente alla magistratura fu condannato si appellò è un diritto di chi viene condannato mi appello poteva rinunciare poteva prendersi la prescrizione e il processo sarebbe finito ma lui disse no rinuncio alla prescrizione perché siccome sono innocente voglio essere assolto nel merito nel processo di appello viene assolto l'accusa impugna la soluzione va in Cassazione la Cassazione dice al processo di appello va rifatto nel processo di appello Tronchetti Provera viene assolto un'altra volta allora l'accusa rimpugna la soluzione e va di nuovo in Cassazione la Cassazione dice bene il processo va rifatto e rifanno il processo di appello sempre per lo stesso reato per una vicenda iniziata nel 2004 e si è conclusa l'anno scorso l'anno scorso 16 anni perché assolto un'altra volta in appello alla fine la Cassazione ha detto vabbè finita qua punto e basta scusi Cricenti astraendo dal caso concreto certo che è un meccanismo bello faragginoso anche la corte forse ci mette del suo mi davi del tubo ah sì scusami di default sono abituato a dare lei sempre scusami Giuseppe è un sistema è un ordinamento ormai nostro che si è complicato in modo ingiustificato noi abbiamo ormai delle procedure che sono un dispositivo fucoltiano che impediscono di tutto si discute nei processi ormai che dei diritti della gente la maggior parte delle cause si conclude con decisioni in rito inammissibile improcedibile e via dicendo e questo ovviamente che cosa significa? significa che se tu per far valere un tuo diritto sia quello ad essere assolto sia un diritto in sede civile devi mettere in campo una serie di adempimenti complicati quando ne sbagli uno ti annullano anche la soluzione e questo è il problema dovremmo tornare ad un diritto più semplice e a delle procedure soprattutto a delle procedure per certi versi più sommarie che non necessariamente la procedura complicata è indice di garanzia per il cittadino anzi questo è il contrario è ovvio che se la Corte di Cassazione non conosce del fatto non può giudicare del fatto e giudica solo della corretta applicazione della legge per cui se l'accusa ricorre dicendo che c'è stata una violazione di procedura e la violazione di procedura c'è stata proprio perché la procedura è sovrabbondante cioè per fare una cosa bisogna farne cento di procedura e allora è che la Corte di Cassazione è della necessità di annullare e di rinviare il processo perché quella procedura venga rispettata per molestando che anche alcune decisioni della Corte di Cassazione sono opinabili nel senso che è un'opinabilità che dipende dalla natura stessa del nostro diritto moderno del nostro diritto attuale ma specialmente di quello italiano insomma che si caratterizza più di ogni altro diritto europeo per questa sua incertezza lacunosità per la farragionosità delle procedure sì ripeto poi visto dall'esterno dal privato cittadino rimane il fatto ho parlato del caso di Tronchetti potrei parlare di un mio caso personale che è aperto nel senso che sono stato per una vecchia vicenda querelato e sono stato querelato il PM non mi ha neanche incontrato non dico sentito visto mi ha neanche incontrato ha chiesto direttamente al giudice di condannarmi e il giudice mi ha condannato dopodiché io ho impugnato ovviamente anche perché per lo stesso reato e per lo stesso motivo alla base della querela un'altra persona invece è stata rinviata a giudizio da un altro giudice italiano questo conferma del fatto che dipende anche dal giudice che trovi insomma adesso vedremo come va a finire non voglio parlare dei casi miei comunque sarà una cosa molto divertente su cui magari insieme a Giuseppe Cricenti se vuole potremmo scrivere un pamphlet dopo quando la vicenda si sarà chiusa che effetto ti ha fatto se hai visto o hai letto le parole di Beppe Grillo nel video a difesa del figlio con un processo in cui ancora non c'è stata un'udienza perché non c'è neanche rinvio a giudizio nel senso i magistrati gli inquirenti si dice una volta stanno decidendo che cosa fare di quella comunque storiaccia che effetto ti ha fatto? ma intanto io intanto io penso che insomma è il padre ed ha il diritto di difendere il figlio e sbagliano quelli che gli fanno la banale morale del tengo famiglia che lo accusano di essere il solito italiano che tiene famiglia e difende i familiari un padre difende il figlio fino a che può difenderlo insomma se lo fa correttamente io non vedo niente di male certo sbaglia non sbaglia ad accusare i giudici ha anche per certi versi il diritto di farlo nei limiti in cui porta degli argomenti insomma per esempio ha detto si è chiesto come mai non sia stata applicata una misura cautelare nell'immediatezza quando normalmente la si applica ma questo è una valutazione di merito che hanno fatto i giudici ma lui ha tutto il diritto di domandarsi non sbaglia nel momento in cui invece accusa la persona offesa di essersi inventata tutto o comunque la aggredisce sul piano mediatico insomma una ragazza che esce distrutta poi dalla divulgazione che lui è in grado di fare di tutto questo ma questo ci dà anche una misura di quello che dicevo prima cioè in Italia per certi versi è difficile fare i processi perché ci si intromette chiunque ci si intromettono mezzi sociologi pseudo-antropologi e casalinghe di voghera alla ribalta bisognerebbe invece lasciare che sì e lasciare che i fatti vengano accertati senza condizionamenti esterni io sono convinto che i giudici non si fanno condizionare però un certo peso quando si monta un caso del genere un certo peso sul giudizio si crea non solo ma se se non ci fossero le prove supponiamo che i giudici assolvano perché non ci sono prove sufficienti per esempio o per un qualsiasi altro può succedere insomma non è che tutti i casi sono certi e sono netti come ne uscirà la ragazza da questa situazione e viceversa se venisse condannato con poche prove il figlio noi abbiamo questa abitudine di caricare i processi di aspettative sociali o pseudo sociali e non va bene sul piano personale lo capisco cioè un padre che difende il figlio i toni forse sono sbagliati e soprattutto l'atteggiamento assunto verso la ragazza sì aggiungo che questa nostra attitudine ad aver sviluppato una aspettativa se vogliamo eccessiva sulla valenza messianica dei giudizi dei giudizi della giustizia segue il ragionamento tuo Giuseppe è colpa anche di Grillo però adesso astraiamo dal caso concreto del papà Grillo e del figlio Grillo ma se c'è uno che chiedeva l'agonia e le sentenze no piazza pulita era lui adesso io capisco che se c'è un clima sbagliato lui sicuramente ha alimentato come politico politico o inventore del Movimento 5 Stelle ha contribuito a questo clima dopodiché io sono il primo dei garantisti l'ho ricordato prima il figlio è innocente fino a prova contrario c'è un malvezzo che si è generato in Italia anche per colpa di Beppe Grillo o di quelli che la pensano o la pensavano come lui quello per cui se uno finisce nelle maglie della giustizia non è più presunto innocente è presunto colpevole cioè ormai ti hanno sputtanato sui giornali e vabbè ma se c'è il fumo ci deve essere l'arrosto anzi poi si si dice a un imputato Giuseppe correggemi ti auguro che tu possa dimostrare la tua innocenza no no in uno stato di diritto non è l'imputato che deve dimostrare la propria innocenza è l'accusa che lo porta in tribunale a dover dimostrare che è colpevole anche questo malvezzo di dire ti auguro di dimostrare la tua innocenza è figlia di quelle campagne che erano alimentate anche da Beppe Grillo punto a capo se vuoi Giuseppe puoi replicare sul punto no hai ragione è anche vero che questa attenzione chiamiamola non direi mediatica questa attenzione populistica sulla giustizia sui processi penali nasce prima di Grillo si si lui ha fatto la sua ma ormai sono decenni che in Italia c'è una curiosità non solo una curiosità una saccenza dell'agene un'intromissione una faziosità tipica degli italiani siamo tifosi in tutto cos'era quella battuta di Churchill che andiamo alla guerra come se fosse una partita di calcio una partita di calcio come se fosse una guerra e questo facciamo con la giustizia quindi è ovvio che lui ha dato la sua ma è sempre da decenni che è così in Italia già da prima di Tangentopoli questo cosa significa contribuisce a quello che dici tu cioè al fatto che il processo stesso di per sé è una pena e non solo e che si è diffusa ormai l'idea e questa anche l'etica pubblica dominante l'ha alimentata che la giustizia coincida con l'accusa e questo è il dato di fatto pericoloso nel senso che sentiamo anche magistrati o ex magistrati che per il semplice fatto di trovarsi davanti a una cosa cioè per loro non conta poi la soluzione non conta il giudizio conta il fatto che un tale sia accusato o ne venga chiesto il invio a giudizio e questo è una scarsa sensibilità verso la giuridizione non solo ma è ovviamente il pericolo principale per le garanzie del cittadino come vedete Cricenti Giuseppe fa delle dotte citazioni Winston Churchill prima la casalinga di Boghera perché siamo sempre dalle parti di Ennio Flaiano e Alberto Arbasino la commedia permanente italiana dovrei dire che ha ragione prima di Grillo avevamo in tv per tanti anni Michele Santoro che faceva della piazza in collegamento e del suo programma una sorta di aula di tribunale se finivi sotto accusa di Santoro e di un giovane Marco Travaglio eri finito e poi vai a dimostrare anni dopo e nel frattempo ti hanno assolto in tanto ti hanno mascariato devo dire ma qui il discorso sarebbe lungo e lo accenno al magistrato Cricenti che forse noi siamo almeno io mi ricordo negli anni 70 ero un ragazzo ma c'erano i pretori d'assalto quelli che fecero passare il messaggio che la giustizia non doveva essere aspettiamo la notizia di reato e interveniamo ma dobbiamo essere proattivi se possibile fare in modo che i reati non vengano commessi o meglio neanche la notizia di reato interveniamo laddove pensiamo che ci sia una notizia di reato adesso la sto facendo Giuseppe la sto facendo in maniera grossolana però un po' di quella mentalità anzi dici meno di quello che dovresti nel senso che ti sei tenuto diciamo così perché no ma veramente io penso che i pubblici ministeri non tutti ovviamente ma c'è una minoranza di pubblici ministeri che si sente portatore di valori morali di valori sociali di teologia che cerca di imporle attraverso l'azione penale in missione per conto di Dio i pretori d'assalto avevano un retroterra culturale dietro quello era un periodo in cui c'era una certa concezione della magistratura che nasceva dal fatto che finalmente la costituzione era intesa non come un insieme di norme programmatiche rivolte cioè allo stato che ponevano obiettivi ma come una norma applicabile nei rapporti fra privati che cioè riconosceva diritti ai signori e quindi la magistratura si era fatta interprete dell'applicazione diretta della costituzione nei rapporti privati senza la mediazione del Parlamento quindi c'era un retroterra adesso non c'è più neanche questo retroterra culturale adesso l'azione di questi pochi PM è proprio mossa da un ruolo esorbitante che si hanno assunto cioè l'etica pubblica in Italia coincide con il diritto penale questo è il problema cioè io non faccio una cosa non perché è disdicevole farla ma perché ho paura di incorrere in una sia pur minima sanzione e questo è il punto cioè se noi eliminassimo la maggior parte di alcune sanzioni ci sono molti comportamenti che sarebbero dovremmo imparare a non tenerli sulla base di regole deontologiche morali e via dicendo ma invece abbiamo questa piccola casta di PM che si sente portatore di portatrice di valori etici di ideologie di valori di altro genere e tende ad imporle attraverso l'inchiesta l'azione penale mi dispiace che il tempo si sia esaurito perché prendo l'impegno con Cricenti a riospitarlo se vorrà più avanti tanto questo ciclo di conversazioni prosegue ininterrottamente fino alla fine di maggio perché poi c'è l'altro tema ci lasciamo così su questa battuta che mi ha fatto il presidente Luciano Violante presidente merito della Camera dei Deputati il quale in passato da magistrato era accusato di essere il capo io l'ho anche ricordato l'altro giorno il capo del partito dei PM o di certi PM diciamo così il quale adesso dice che in Italia più che preoccuparsi della separazione delle carriere dei magistrati che è un tema perché come abbiamo imparato dai film americani in America c'è l'accusa c'è la difesa e poi c'è il giudice il quale da schiaffi alla difesa e all'accusa parimenti diciamo così in Italia non si è capito bene perché fra accusa e giudice no? la separazione delle carriere tema complicato ma lui ha detto però innanzitutto adesso io mi preoccuperei la separazione delle carriere tra i giornalisti alcuni giornalisti alcuni PM perché poi il vero cortocircuito è il famoso cortocircuito mediatico giudiziario il magistrato che passa le carte al giornalista d'assalto che le pubblica nel frattempo abbiamo creato l'agonia in cui il presunto colpevole ma presunto innocente a norma di costituzione è già stato condannato giusto Cricenti? c'è stato un caso non voglio fare nomi in cui un decreto di sequestro prima che essere notificato all'interessato è comparso sul Corriere della Sera ora qui però il discorso è più semplice o meglio è più semplice la soluzione e basterebbe quando ci sono inchieste non citare il nome del PM non è necessario all'informazione pubblica basta dire che c'è un'inchiesta sulla truffa dei pomodori a Caltanissetta che se ne sta occupando la procura di Caltanissetta e il diritto all'informazione è garantito è chiaro che in questo modo non ci saranno PM tentati di apparire sui media e ovviamente magari a farsi condizionare da questa loro esmania nell'attività giudiziaria semplice è semplice semplice perché crescenti che ringrazio non si viola alcun diritto né di manifestazione del pensiero né all'informazione perché la notizia viene data non è che dire il nome del PM è imposto dall'aceduo o dal Vangelo allora osservazione saggia ringrazio Cricenti chiudo ricordando che la sera prima di essere ammazzato da un comando di terroristi rossi Walter Tobagi inviato del Corriere della Sera fece un incontro a Milano al Circolo della Stampa di Corso Venezia in cui disse che i giornalisti non dovevano diventare delle caselle delle lettere dei magistrati e che quindi se il magistrato ti passava una carta e ti diceva però non citarmi tu invece lo dovevi citare cioè dovevi dare la fonte perché altrimenti potevi prestarti a un gioco che ti passava sopra la testa quando io all'epoca interpelai Eugenio Scalfari fondatore di Repubblica gli dissi ma tu che verifiche fai se un magistrato ti passa una carta ah ma io le verifiche non le faccio se dovessi fare le verifiche la notizia non la pubblicherei mai o la pubblicherei dopo una settimana e invece la pubblico subito ecco quella è la morte del giornalismo ed è la morte anche di un modo di fare giustizia Cricenti grazie ne riparleremo volentieri buona giornata a tutti domani parliamo di ricette e di ristorazione con Filippo Lamantia continuate a seguire le fonti abbeveratevi H24 a domani alle 10 ciao 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 Grazie a tutti.